Qui siamo all'interno di un centro commerciale in cui ogni minuto arriva un nuovo pullman carico di donne e bambini che scappano dall'Ucraina. Sono appena arrivati due pullman dei Vigili del Fuoco che li scaricano qua dove trovano del cibo, dei vestiti, gli indumenti, dell'ospitalità per la notte. C'è veramente tanta tanta gente, è impressionante. Iscriviti al confiato Abbiamo appena lasciato il primo campo profughi che si trova dopo il confine Polonia-Ucraina Il primo campo in cui le persone vengono scaricate dai numerosi pullman che vanno a recuperarle nel paese in guerra Ora invece ci stiamo proprio dirigendo sulla frontiera e c'è una lunga coda C'è una nuova Sì, sei buono, da dove sei? America! America! Hi! Thank you! I need to sing, I need to sing! I also, and my problem is I have so much stuff in my head. I don't find the watch. Perché sei qui a suonare? Thank you! Sono qui per... Bye bye! Per dire... Siete insicuro... Quelli che vengono. Sono qui per dirgli ciao con la musica. Grazie. Spero.